La Toscana chiederà più autonomia su dieci materie la cui competenza è condivisa con il governo. Lo ha detto il presidente Enrico Rossi citando prima fra tutte la sanità dove la richiesta di autonomia riguarda organizzazione, gestione delle risorse professionali, intramenia, formazione specialistica e farmaci, ma anche il lavoro dove si punta a estendere a livello toscano il modello Prato di controllo della tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra le materie concorrenti anche beni culturali, accoglienza dei rifugiati, porti, autonomie locali, finanza pubblica, istruzione tecnica e formazione. Chiediamo che su alcune materie, così come hanno fatto già altre regioni, a loro modo, noi lo facciamo a modo nostro, sia riconosciuta alla Toscana un'autonomia maggiore in materia di governo del territorio perché pensiamo di aver fatto cose importanti, come la legge sul paesaggio, già concertata col Miba, che come la legge 65 per il governo del territorio. Non vorremmo che i provvedimenti nazionali ci portassero indietro anziché andare avanti. Il regionalismo differenziato previsto dall'articolo 116 della Costituzione prevede che la proposta con la richiesta di maggiore autonomia della Giunta passi dal Consiglio regionale e che una volta stipulata l'intesa della durata di 10 anni con lo Stato, il disegno di legge del Governo abbia l'ok del Parlamento. Obiettivo? Mettersi in condizione di poter fare patti ad armi pari con lo Stato. Nel alcune materie, per esempio, abbiamo previsto un istituto che laddove le nostre leggi ad oggi, i nostri piani, siano più tutelanti di quanto non lo siano quelli dello Stato, ecco, su quelle chiediamo valga la nostra normativa. Ora la Regione dovrà avviare il negoziato con lo Stato per stipulare l'intesa. Grazie. 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 Grazie.